Durante la stagionatura, il parmigiano reggiano acquista la sua tipica struttura granulosa. La frattura a scaglia diventa friabile e solubile. Buonissimo, facilmente digeribile, estremamente ricco dal punto di vista nutrizionale, il parmigiano reggiano non perde occasione per eccellere. Il gusto unico di un prodotto senza additivi. La concentrazione di proteine, vitamine, calcio e sali minerali lo rendono adatto ad ogni età e in ogni situazione. Una carica di pronta energia, utile per tutti.